Gli obbligo di informazione erano già presenti nel precedente testo del decreto, il 196. In quel caso si chiamava informativa ed era sempre lo stesso articolo 13 a prevederlo. Si affermava già a quel tempo che l'interessato, la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente, quindi prima, informati oralmente o per iscritto. Riguardo a che ti aspetti, che sono sei, le finalità e le modalità di attrattamento. La natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze ad un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, i diritti dell'interessato e gli estremi identifichieri del titolare, eccetera, eccetera. Nel regolamento nuovo è l'articolo 13, che disciplina questo tipo di adempimento, lo chiama informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato e il 14 fa riferimento alle informazioni raccolte invece presso soggetti terzi. In ogni caso è previsto che, in caso di raccolta dei dati, il titolare del trattamento deve fornire l'interessato nel momento in cui i dati sono ottenuti, quindi nell'immediatezza della raccolta in questi elementi, che sono l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento. Quindi si metterà, che sarà, non so, il comune di, o l'unità sanitaria locale di, o l'amministrazione di, i dati di contatto del responsabile, della protezione dei dati, quindi il famoso DPO, le finalità del trattamento, cioè la ragione per cui i dati vengono raccolti, e perché sono trattati? Detterà D, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi, quindi l'utilizzo sostenuto da una norma di legge di queste informazioni, e gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali. Quindi l'interessato ha diritto a sapere a chi vengono trasmesse queste informazioni, F, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo, ad una organizzazione internazionale. Quindi nel caso in cui questo avvenga. Inoltre deve essere reso edotto l'interessato del periodo in cui i dati vengono conservati, per quanto tempo vengono conservati, e poi soprattutto dell'esistenza del diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o altro. Siamo attenti perché nella pubblica amministrazione questo non è esattamente consentito né automatico, non possono i cittadini chiedere di essere cancellati dalle liste anagrafiche o quelle dei tributi, però hanno il diritto di verificare che sia corretta l'iscrizione, di chiedere la rettifica se è sbagliata o di verificare se sono ridondanti o meno le informazioni che sono contenute. Per questa ragione hanno il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. E soprattutto hanno il diritto di sapere se le informazioni che sono raccolte possano attivare quello che si chiama un processo decisionale automatizzato, come la profilazione, cioè un giudizio che derivi automaticamente dall'utilizzo dell'informazione in possesso del mente. Questo sarà un tema che tratteremo in un focus specifico. E come si diceva, il titolare deve informare l'interessato anche se intende trasferire questi dati ad altri soggetti o se intende utilizzare queste informazioni per finalità diverse nelle pubbliche amministrazioni e se ci atteniamo agli obblighi di legge questo riempimento, insomma, è tutto sommato abbastanza limitato, è contenuto persino inesistente. Sul sito del garante vi è una parte dedicata ai contenuti dell'informativa che devono essere tassativamente quelli indicati nei paragrafi che abbiamo visto prima e c'è scritto anche in questa parte del sito che dobbiamo rispettare i tempi dell'informativa che deve essere forita entro un termine ragionevole che non può superare un mese dalla raccolta oppure al momento della comunicazione, non della registrazione. Ed è scritto anche in questo sito le modalità l'informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile per interessato, facilmente accessibile e scritta in un linguaggio che sia chiaro e semplice ed è data di norma per iscritto o in formato elettronico quindi non può essere orario, non può essere verbale questo è pacifico, il sito contiene raccomandazioni e fa in modo che l'informativa sia viritiera, sia aggiornata e la struttura, quindi quella che abbiamo visto possiamo ripilogare al volo in modo da restare nei minuti di questo blocco. C'è una premessa, quindi quando noi raccogliamo delle informazioni presso l'interessato o comunque quando trattiamo delle informazioni siamo obbligati a informare l'interessato che stiamo trattando i suoi dati spiegando le ragioni, le finalità vengono acquisite perché vogliamo rilasciare un permesso perché vogliamo rilasciare un'autorizzazione oppure perché stiamo trattando un elenco finalizzato ad uno scopo che la regia consente. È importante che sia scritto anche chi è il titolare del trattamento che di solito è l'amministrazione il responsabile del trattamento dei dati che quindi potrebbe essere il responsabile del servizio o una società esterna che gestisce l'informazione nonché il responsabile della protezione dei dati. Poi indichiamo i destinatari dei dati cioè a chi sono dirette queste informazioni? Sono trattate soltanto dall'ente o sono trasferitati soggetti che per esempio che hanno il compito di trattarlo per incarico nostro oppure per motivi istituzionali? Pensiamo a un contenzioso oppure è un rapporto con enti esterni come la prefettura o il tribunale o altri ancora e l'eventualità che vi sia un responsabile esterno dei dati cioè un soggetto che gestisce il dato per conto dell'amministrazione. Informiamo anche il soggetto laddove che tu si verifichi ci sono dei casi in cui vi sia la profilazione cioè la decisione automatizzata dell'informazione mi viene in mente la patente appunti o tutte le situazioni in cui un soggetto per il solo fatto che si verifichino delle circostanze rilevate automaticamente possa essere soggetto poi a delle decisioni e che vengono prese in maniera appunto automatizzata. Ma soprattutto l'aspetto importante è che ogni informativa si chiuda elencando i diritti dell'interessato in modo che si sappia che l'interessato può chiedere eventuali rettifiche l'aggiornamento, la cancellazione se ci è consentito o si può opporre al trattamento se ritiene per esempio che la persona che viene indicata in quella situazione sia persona diversa da lui cioè che non sia lui.